Sulla vicenda della morte di Giuseppe Novellino, il pensionato 71enne di Torino, ma originario di Vibonati, ucciso il 27 agosto del 2012 con un colpo di pietra alla testa dal proprietario di un terreno confinante, il 66enne Antonio Mariano, la Corte di Assise di Appello di Salerno, ha accolto l'impugnazione della difesa dell'imputato, reo confesso del delitto. Nei confronti di Mariano, difeso da Franco Maldonato, i giudici salernitani hanno escluso tutte le aggravanti sin qui ritenute dai giudici di Sala Consilina e di Potenza, riducendo la pena inflitta a 12 anni di reclusione. L'imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello a 15 anni e 4 mesi di carcere con l'aggravante di aver agito con crudeltà e per motivi futili e abietti. L'esclusione di queste aggravanti ha reso possibile la revisione del trattamento sanzionatorio con l'eliminazione dei 3 anni e 4 mesi per effetto delle attenuanti generiche concesse in relazione al comportamento processuale dell'imputato. Quest'ultimo aveva quasi subito confessato il delitto. La Corte Suprema di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva condannato Mariano a 15 anni e 4 mesi. Contro la sentenza era infatti insorta la difesa con un ricorso deciso della prima sezione penale il 10 maggio dello scorso anno. Gli interessi della parte civile erano rappresentati dall'avvocato Linda Donato. L'omicidio avvenne in una zona di campagna, località Gallari, a pochi chilometri dal centro di Vibonati, dopo una violenta lite per questioni relative ai confini di proprietà. Il corpo di Novellino fu trovato dai carabinieri su indicazione dello stesso Mariano dopo un'intera giornata di ricerche.